Musica Bene, eccoci insieme anche oggi. Ospite in studio con noi c'è Giovanni Salmistrari che è il presidente di Ance Veneto, l'associazione dei costruttori edili ed è anche il presidente della rete di imprese Venice Green Building Cluster. In qualche maniera chi sa l'inglese ha già capito di che cosa parliamo, quindi parliamo anche di edilizia ecosostenibile. Il pretesto è un convegno che si terrà il 17 gennaio al centro civico di Selvazzano Dentro, il centro civico Fabio Presca, organizzato dall'associazione Passaggi a Nordeste. Il tema è la sostenibilità come driver di sviluppo territoriale, sottotitolo la certificazione ambientale delle città come asset per l'attrazione di investimenti. Parlare di questo con il rappresentante dei costruttori edili sembra quasi una rivoluzione, intendo dire. Spesso la cementificazione del territorio è messa sotto accusa. In questo caso siete tra i proponenti, lei sarà uno dei relatori, di un diverso modo di interpretare il territorio. Certo, diciamo che ormai è chiaro a tutti che il nostro territorio, particolarmente nel Veneto, è stato molto sfruttato negli anni passati. I famosi capannoni sono usciti un sacco di articoli di giornale anche nell'ultimo periodo. Costruire in modo diverso è diventato un'opportunità, oltre che una necessità. In un territorio molto costruito, riqualificare, rigenerare le nostre città, le nostre periferie è sicuramente una delle sfide che ci aspettano per il nostro futuro. E forse anche, come dicevo prima, un'opportunità. Perché noi veniamo da un settore che è stato massacrato negli ultimi dieci anni e da una crisi che sembra non avere fine. E forse dobbiamo fare una riflessione all'interno proprio della nostra categoria per vedere di essere propositivi con cose diverse, con un nuovo modo di costruire. E credo che ormai l'ecosostenibilità e il costruire con certificazioni ambientali sia ormai doveroso più che necessario, insomma. Cosa vuol dire certificazione ambientale in un settore come il suo? Beh, certificazione ambientale vuol dire molte cose. Partiamo dalla più conosciuta anche, credo, al pubblico che ci segue, che è quella della certificazione energetica in classe A o A+. E poi c'è tutta la parte che riguarda i prodotti di costruzione. I prodotti di costruzione ormai sappiamo bene che alcuni prodotti abbiamo visto la loro nocività nel tempo, la loro deperibilità. E pertanto si sta con la filiera delle costruzioni, cioè non solo i costruttori ma anche i produttori dei prodotti da costruzione, si sta studiando il modo di costruire con il benessere dell'abitazione, non più solamente con la performance energetica, ma anche proprio con un benessere di vivibilità del costruito e dell'edificio che si va a occupare. Soprattutto nel Veneto spesso si è parlato anche di cultura del mattone, nel senso che il senso della proprietà della casa è una caratteristica particolare nel Veneto. Ecco, quando parliamo di cultura del mattone, è ancora il mattone intendo dire l'elemento costruttivo principale o si cominciano anche a vedere altri elementi come per esempio il legno ad esempio? No, sicuramente diciamo che noi nel Veneto la cultura del mattone ha trainato negli anni e le nostre, forse dovuto anche alla nostra storicità, ai nostri centri storici, alle nostre ville venete e chiese in giro per tutto il nostro territorio dove ci sono, la fanno da padrone ovviamente, i marmi e i mattoni. Oggi si costruisce sicuramente in modo diverso, il legno sta prendendo piede in maniera significativa, ormai diciamo che gli studi ci hanno portato a poter utilizzare il legno anche per costruzioni complesse, cito una cosa che ormai è nota su tutti i giornali da un po' di giorni, le due torri che verranno costruite a Jesolo sono le torri più alte d'Europa costruite totalmente in legno. Questo ci fa riflettere su tutto l'utilizzo di questi materiali che hanno un vantaggio anche di ciclovita del materiale perché poi uno dei temi importanti e che infatti con la rete di imprese stiamo cercando di sviluppare e di studiare è proprio quello della fine vita dell'edificio, cioè gli edifici non sono eterni, non sono più eterni come diciamo le nostre bellezze storiche e per cui devono essere riutilizzati a fine vita, a fine ciclo. Ovviamente utilizzando dei materiali di un certo tipo questo è più possibile e è anche appunto auspicabile. C'è anche, si sta introducendo anche una logica di economia circolare nell'edilizia. Esatto, appunto questo sul... Nel senso che io ho letto a qualche parte anche la possibilità di riutilizzare ad esempio nel caso si debba ricostruire parte almeno dei materiali precedentemente utilizzati. Certo, questo è uno dei temi importanti, il riciclo del materiale a demolizione è un riutilizzo, è un tema fondamentale io credo per evitare proprio lo sfruttamento delle risorse che sono sempre meno del nostro diciamo mondo. Mi viene da dire però che le norme a volte troppo stringenti e troppo particolareggiate impediscono di fatto questo utilizzo del materiale riciclato. Il quale deve essere materiale certificato, molto ovviamente deve essere privo di ogni possibile materiale inquinante, però a volte la procedura di questo consiglia l'utilizzo di materiale vergine invece che andare a riutilizzare il materiale a demolizione. Questo credo che sia una strada che bisogna per forza tutti insieme, costruttori, produttori e organi vigilanti e per cui tanto la politica, trovare una strada più consona a questo nuovo percorso che sta nei fatti e che non può essere bloccato. Lei è rappresentante di una categoria importante come quella dei costruttori Lili che fa riferimento al sistema confindustriale, quindi siamo il sistema principe dell'imprenditoria del nostro paese. Dico questo perché mi ha colpito il sottotitolo del convegno che è la certificazione ambientale delle città come asset per l'attrazione di investimenti. Ricordo negli anni 70 c'era una commedia musicale di Gino Bramieri che diceva anche i bancari hanno un'anima. Qua pare che anche i denari abbiano una scelta etica. Beh, sicuramente attrarre i capitali credo che sia abbastanza plonastico. Chi investe vuole un ritorno economico e va a investire in territori che sono attrattivi. Allora noi dobbiamo cercare di rendere attrattive le nostre città. Cioè dobbiamo cercare di riqualificare parti di città per renderle appetibili a investimenti e a trasformazioni importanti. Quando si parla di rigenerazione urbana troppo spesso non si fanno molte considerazioni che vanno fatte a mio avviso dietro a questa parola molto bella, molto di moda ma poi che si scontra con la realtà dei fatti. Noi parliamo di rigenerazione urbana e dobbiamo pensare innanzitutto che dobbiamo dare dei vantaggi a chi investe, che sono dei vantaggi di due tipi a mio avviso. Uno, fiscale, ovvero deve diventare più economicamente, più vantaggioso, riutilizzare quello che esiste piuttosto che andare a comprare un terreno vergine. Perché altrimenti è inutile parlare di consumo suolo zero, queste cose qui, poi alla fine si scontrano col vile denaro che purtroppo, che si voglia o non si voglia, comanda la nostra economia. Era quello che mi colpiva infatti. E poi un altro aspetto che trovo fondamentale e forse quasi più importante è la destinazione d'uso dei nostri edifici. Noi viviamo una legislazione, una tradizione delle nostre città dove viene scelta la destinazione d'uso a priori. Questo sta creando dei grossi problemi. Chi gira il mondo si accorge che si va dentro una libreria e si può bere un aperitivo, poi forse ci si può anche fermare a mangiare una cosa e incontrare delle persone. Che destinazione d'uso ha questo edificio? Nel nostro ordinamento o è libreria, o è bar, o è ristorante. In giro per il mondo non è così. E questo è un luogo attrattivo, dove uno entra volentieri. Ecco, questo è un esempio un po' banale per spiegare cosa vuol dire rendere attrattive le città. Cioè non bisogna imbrigliarle in destinazioni d'uso predefinite, essendo che il mondo cambia velocemente. Per cui noi viviamo dei piani particolarizzati, dei piani urbanistici che sono di 50 anni fa, di 40 anni fa. Il mondo non è cambiato, è cambiato 100 volte nel frattempo. Lei ha introdotto un elemento che è quello anche dal rapporto con il sistema politico burocratico. E concluderei con una domanda se vuole di carattere filosofico, perché apprezzo l'impegno di una categoria come i costruttori edili nel cercare di in qualche maniera trovare delle possibilità ecosostenibili di costruzione. Mi fa venire in mente quanto hanno fatto, devo dire, anni fa, gli artigiani del trasporto quando dicevano lasciamo i camion, dateci la possibilità di caricare sui treni. Eppure poi alla fin fine di tutti questi vostri sforzi, che sono incomiabili, anzi vanno assolutamente rispettati, bisogna farne di più, la superficie, il calore della crosta terrestre comunque aumenta costantemente anno dopo anno. Si farà anche lei delle domande? Ognuno deve fare il suo, però c'è qualcuno che non lo fa evidentemente. Beh, ma credo che, indubbiamente tutti dobbiamo farci un po' un esame di coscienza su quello che è lo sfruttamento della nostra terra. Cioè a volte, faccio un esempio sciocco, ci si fa la barba e si lascia aperta l'acqua, non servirebbe, no? Cioè ci sono degli utilizzi del nostro mondo in maniera un po' disattenta. Ecco, forse negli anni del boom dell'edilizia, prendiamoci un po' di colpe noi costruttori, più che noi costruttori, io dico sempre che i costruttori eseguono quello che qualcuno gli ordina di fare, più che, perché gli investitori sono quelli che danno a noi il lavoro e non siamo noi direttamente nella maggior parte dei casi. Diciamo che nel boom dell'edilizia è stato costruito un po' ovunque in maniera disordinata e senza molta attenzione a quello che era l'ambiente, sia nei prodotti di costruzione, sia neanche nel modo di creare parcheggi sovradimensionati, creare aree commerciali che poi si sono rivelate inutili. Cioè forse, ecco, quello può essere un po' da porre attenzione. Poi, sui cambiamenti climatici in generale, credo che la responsabilità sia... No, 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 dico che la responsabilità appunto sia di tutto il mondo industriale nel suo complesso e poi chi più chi meno ci ha messo nel suo, insomma. Grazie. Comunque, per chi vuole continuare a ragionare su questi temi che sono fondamentali e determinanti per il futuro del nostro pianeta, un'opportunità è il convegno che l'Associazione Passaggia Nord-Est organizza il 17 di gennaio nel pomeriggio a partire dalle ore 16.30 al centro civico di Selvazzano Dentro, intitolato a Fabio Presca. Il titolo del convegno è la sostenibilità come driver di sviluppo territoriale, la certificazione ambientale del città come asset per l'attrazione degli investimenti. Ne abbiamo accennato con uno dei relatori, vale dire Giovanni Salmisrari, presidente di Ance Veneto, l'Associazione dei Costruttori Edili, nonché presidente anche della rete d'imprese del Venice Green Cluster. Bene, grazie, buon lavoro. Grazie. L'appuntamento naturalmente a Selvazzano, ci si vede. Grazie.